Siamo con Misha Moore che si sta allenando qui con i Rockets, come sta andando l'inizio di questa preparazione? Bene, ho già cominciato da un po', la prima parte l'ho fatta tutta da solo a Lugano con un preparatore privato poi ho chiesto a Luca se potevo venire su due volte a settimana per fare cose un po' di corsa, giochi con una squadra che comunque sono importanti da non perdere l'istinto del gioco e che da solo ovviamente non puoi fare Hai terminato la stagione con Joshua Generals, come sei rimasto come rapporti con questa squadra? C'è la possibilità che tornerai là? Ma io non li ho sentiti personalmente, li ha sentiti il mio agente e non è ancora ben tutto in chiaro, adesso sono un po' in un periodo di stand-by, devo ancora vedere In questo caso ci sono aperte più possibilità, i Rockets potrebbero essere un'opzione nel caso decidessi di rimanere in Svizzera? Sì, se tornassi qua penso farei la stagione metà juniori, metà Rockets, visto che hanno già la squadra quasi pronta E con l'Ambripiotta, tuo club formatore, sei rimasto in contatto? Hai avuto notizie da parte loro negli ultimi tempi? Ci sono possibilità anche in quel senso? Sì, sono rimasto in contatto con Zanatta, mi ha detto di chiamarlo quando avevo notizie precise sul mio futuro Però adesso non ho ancora niente, quindi non l'ho ancora sentito E non so ancora bene dove sarò l'anno prossimo